Quindi un sestetto alla comando della corsa, tra poco li vedremo. Ed eccoci qua, sono entrati nello stadio. Volate a ranghi ristretti. Ed eccoci qua, è il finale della seconda batteria della G2 maschile. L'onore di battistrada ha preso qualche metro su tutti gli altri. Andiamo a scoprire chi è il vincitore. Francesco Martinelli, vincitore della seconda batteria della G2. Anche tu devi toglierti il casco per le nostre interviste. E soprattutto gli occhiali, bravissimo. Allora, fatica? Sì. Da 1 a 10, quanta? 10. Perfetto. E' contento da 1 a 10, quanto? 10. Perfetto. Quante vittorie quest'anno? Quasi tutte. Quasi tutte. Dì una cosa, sei più... Ti piace di più la salita, ti piace di più la pianura? Raccontaci. A discesa. A discesa ti piace? Sei meraviglioso. Sei meraviglioso. Ma dimmi una cosa, ti piace anche ritornare a scuola? No. Ah, ecco. Cos'è che ti piace e cosa non ti piace a scuola? A scuola mi piace la ricreazione. E quello che non ti piace poi? Quando si fa italiano. Ah, l'italiano proprio non ti va giù, eh. Dimmi una cosa, hai un campione preferito? Sì. Chi è? Nibali. Vincenzo Nibali. A chi vuoi dedicare la coppetta? Dai, pensaci, guarda, ti stanno osservando in tantissimi, eh. Dai, dai, dai. Papà. Come si chiama? Vigi. Vigi. Vigi.